Ho utilizzato un iPhone 7 Plus per gli ultimi 12 mesi come mio dispositivo principale ed è stata la prima volta che ho utilizzato un iPhone Plus. Mi ci sono trovato benissimo. Batteria, schermo, fotocamera, tutto al top. Quest'anno Apple migliora però ulteriormente il suo modello Plus ed ecco a voi qui, iPhone 8 Plus. Una versione migliorata di iPhone 7 Plus non stravolta ma che nasconde delle chicche, dei passi in avanti veramente molto interessanti e che potrebbero quasi farvi propendere per aggiornare da questo a questo. Quindi vi spiego tutto dopo la sigla. Sì ragazzi, iPhone 8 Plus è un upgrade più interessante di quello che potrebbe sembrare. Perché? Perché intanto il dispositivo esattamente come abbiamo visto per iPhone 8 sceglie per la prima volta un design che pur restando invariato rispetto a quello di iPhone 7 è in realtà realizzato in vetro e questo, fidatevi, è un grosso passo in avanti. Non tanto per le impronte che si vedono tanto in particolare su questa versione nera ma quanto per il grip e secondo me è ancora più importante. Infatti rispetto all'alluminio il grip di questo iPhone 8 Plus in mano è decisamente migliore perché il vetro genera un attrito leggermente maggiore e quindi rende il telefono appunto più sicuro, la presa più salda. Nonostante le dimensioni che sono leggermente aumentate, è invisibile all'occhio la differenza ma in mano si sente e anche il peso, infatti questo iPhone 8 Plus è leggermente più pesante rispetto ad iPhone 7 Plus. Ma parlando del retro in vetro, questo oltre ad essere estremamente resistente e lo avete visto insomma nel nostro drop test di iPhone 8 abilita anche un'altra opzione per gli utenti iPhone per la ricarica e anche questa l'avete già vista è la ricarica wireless. Ho comprato una basetta di ricarica Amazon da 10€ e adesso quando torno a casa posso semplicemente appoggiare il mio iPhone 8 Plus su questa basetta ed entrerai in ricarica. L'unico lato negativo è che la ricarica non è velocissima ma se volete una ricarica più veloce potete semplicemente utilizzare il cavetto Lightning oppure potrete acquistare un alimentatore per MacBook Pro, quello con presa e USB-C e un cavetto USB-C Lightning. In questo modo abiliterete la ricarica rapida su iPhone 8 Plus che si caricherà del 50% in mezz'ora che per una batteria così grossa e capiente come quella di iPhone 8 Plus non è assolutamente male. Dal punto di vista dello schermo rispetto ad iPhone 8 troviamo ovviamente un pannello più grande 5.8 pollici di diagonale e più definito 1080p. La risoluzione è rimasta quella e anche la diagonale ovviamente. La differenza però anche in questo caso sta nella tecnologia True Tone Display che come vi ho spiegato nella recensione di iPhone 8 consente di aggiustare in modo automatico la tonalità del display in base al calore delle luci nella zona in cui ci troviamo. Quindi se siamo a casa di notte e le nostre luci tendono al giallino lo schermo assumerà quella colorazione mentre se siamo in esterna sotto il sole avrà una tonalità decisamente più chiara, più tendente all'azzurro. Una tecnologia che come vi ho già detto non è indispensabile però quando poi iniziate ad usarla beh se tornate indietro vi manca. Per il resto il pannello di iPhone 8 supporta le stesse caratteristiche già viste sugli schermi di iPhone 7 e di iPhone 6S come il 3D Touch che ci consente di interagire al meglio con il dispositivo, di eseguire anche azioni più avanzate. E poi c'è anche una novità per quanto riguarda proprio questi due nuovi iPhone iPhone 8 e iPhone 8 Plus ossia la possibilità di riprodurre video in HDR e ci sono già alcune app ottimizzate che offrono contenuti in HDR come Netflix. Se lo schermo è una conferma è una conferma anche l'audio che però sorprende anche perché infatti rispetto agli speaker di iPhone 7 Plus la differenza qui è notevole. L'audio è molto più cristallino e anche il volume arriva a un livello ancora più elevato il che vi consentirà di ascoltare musica anche senza ricorrere alle cuffie con un'ottima qualità e un ottimo volume. Ovviamente poi su questo smartphone viene confermato anche il tasto home con sensore di impronta integrato Touch ID di seconda generazione sempre veloce, sempre molto preciso che ci consente non solo di sbloccare il dispositivo ma anche di scaricare app, di accedere a determinati documenti privati o anche di utilizzare Apple Pay per i nostri pagamenti tramite lo smartphone. Importanti passi in avanti come vi ho già raccontato nella recensione di iPhone 8 sono stati fatti anche in ambito connettività, oltre alla ricarica wireless arriva infatti il nuovo standard Bluetooth 5.0 che migliora il range di connessione e la qualità della connessione Bluetooth, utilissimo quindi sia per avere una connessione più duratura e migliore ma anche per risparmiare batteria sui dispositivi connessi. E questa secondo me è una grande aggiunta. Ovviamente abbiamo un wifi di ultimo standard, la ricezione dello smartphone secondo me è addirittura a livelli superiori rispetto a quello che aveva fatto vedere iPhone 7 Plus e anche la qualità in chiamata è ottima sia dalla capsula che in viva voce. A bordo di iPhone 8 Plus c'è il nuovo iOS 11 la cui caratteristica principale, quella che vi fanno vedere tutti nei video e che vi faccio vedere anch'io, è il nuovo centro di controllo con singola pagina quindi non serve più scorrere e che ora è molto più basato sul 3D Touch. Infatti con pressioni decise sullo schermo possiamo attivare alcune nuove funzioni tra cui la utilissima modalità non disturbare alla guida che vi risparmierà tanti incidenti probabilmente dato che siamo costantemente distratti dal telefono oppure nuove funzionalità legate ad esempio all'Apple TV. Adesso premendo con forza su questo toggle ad esempio possiamo trasformare il nostro iPhone in un remote controller per l'Apple TV. Ma ovviamente iOS 11 ha tantissime novità che vanno oltre quelle legate al centro di controllo e per scoprirle tutte vi invito a guardare la nostra recensione di iOS 11. iPhone 8 Plus però punta davvero tutto sulle prestazioni e sulla fotocamera e allora vi parlo di queste due cose. All'interno di iPhone 8 Plus c'è lo stesso processore che abbiamo visto anche su iPhone 8 e che arriverà anche su iPhone X, su iPhone X. Quindi da questo punto di vista tutti gli iPhone di Apple di quest'anno girano allo stesso modo e girano benissimo. iPhone 8 Plus però esattamente come iPhone X ha un giga di RAM in più rispetto ad iPhone 8. Infatti passa da 2 GB di RAM a 3 GB di RAM. Questo non cambia granché le cose poi nell'uso quotidiano ma evita ad iPhone 8 Plus quei problemini di rallentamento che avevano i primi modelli Plus rispetto ai modelli non Plus quando gestivamo più app in background. Invece lui è una scheggia in tutto, supporta tantissime app in background, non si riescono neanche a contare perché iOS ha una gestione fenomenale dei processi in background. Nell'apertura e chiusura delle app e nell'esecuzione ovviamente di queste app, anche dei giochi pesanti, la 11 Bionic, il nuovo processore realizzato da Apple, gira veramente che è una meraviglia. Scalda soltanto un pochino quando lo mettiamo un po' troppo sotto stress ma è veramente rarissimo notare un riscaldamento della parte posteriore. Magari quando fate video per diversi minuti potrebbe capitare. Tuttavia oltre la nuova CPU Apple quest'anno realizza anche lei una GPU per i suoi nuovi iPhone 8 più potente rispetto al passato e che garantisce prestazioni migliori non solo nei giochi ma anche nella realtà aumentata. E la fotocamera su questo iPhone 8 Plus ragazzi almeno per quanto riguarda la posteriore è veramente a livelli altissimi. Credo sia la miglior fotocamera sul mercato attualmente in attesa di iPhone X è un modulo con doppia fotocamera, lente grandangolare e lente teleobiettivo con ingrandimento ottico fino a 2x che funziona quindi con la stessa tecnologia di fondo rispetto a quella che avevamo su iPhone 7 Plus ma in questo caso grazie al nuovo ISP adeguato insomma per il nuovo processore A11 Bionic possiamo ottenere un qualcosa di veramente interessante in tema di riconoscimento del volto. Infatti è inutile che vi stia a parlare della qualità degli scatti standard di questo iPhone 8 Plus che vi ho già detto fa delle foto secondo me meravigliose tra le migliori in campo smartphone sempre molto definite e migliorata tantissimo la gestione degli scatti al buio e serviva perché insomma iPhone 7 e iPhone 7 Plus erano un po' indietro rispetto alla concorrenza da questo punto di vista mentre con iPhone 8 i risultati sono eccellenti. Ottimi sfocati naturali ma parlando di sfocati questo iPhone 8 Plus fa un grosso passo in avanti proprio per quanto riguarda la modalità ritratto. Quella modalità ritratto che su iPhone 7 Plus consentiva fondamentalmente di creare un effetto un po' come quello che state guardando in questo momento in cui io sono a fuoco e lo sfondo invece no è leggermente sfocato. Innanzitutto la modalità ritratto su questo iPhone 8 Plus migliora notevolmente in termini di resa rispetto a quella di iPhone 7 Plus infatti lo sfocato è molto più credibile ci sono meno errori nello scontornamento del soggetto in primo piano ma la vera novità di iPhone 8 Plus è la modalità Portrait Lighting che è una modalità in cui possiamo andare ad interagire con quello scatto Portrait e andando insomma ad aggiungere degli effetti di luce a scontornare il soggetto a rendere appunto la parte scontornata completamente a colori e l'altra in nero o viceversa a rendere tutto in bianco e nero. Veramente un qualcosa che rende molto molto bene devo dire ci sono ovviamente dei problemi di gioventù la funzione è stata lanciata in beta quindi è lecito aspettarsi dei miglioramenti ma devo dire che per un utilizzo social queste foto sono già molto molto carine e di impatto infatti se non avete mai visto una foto del genere oppure se non avete mai generato voi una Portrait Lighting sul vostro iPhone 8 Plus la prima volta che lo farete resterete veramente sorpresi speriamo appunto che comunque migliore ancora la funzionalità perché c'è ancora qualcosa da limare ma nel complesso è un ottimo inizio. I miglioramenti ci sono però anche in campo video infatti iPhone 8 Plus consente di registrare slow motion in 1080p a 240 fps e filmate addirittura in 4k a 60 frame al secondo avete già visto i demo video di iPhone 8 in questo caso a quella qualità si aggiunge anche la possibilità ovviamente di utilizzare la seconda lente per uno zoom in tempo reale nei video che saranno comunque con queste massime risoluzioni quindi un risultato complessivo veramente a livelli top. Miglioramenti invece meno interessanti e risultati praticamente simili a quelli di iPhone 7 Plus si ottengono invece con la fotocamera anteriore da 7 megapixel che su iPhone 8 Plus non gode di quelle funzionalità aggiuntive che avrà invece su iPhone X ossia tutti quegli effetti di portrait lighting arriveranno anche sulla fotocamera anteriore ma iPhone 8 può utilizzare questa modalità solo con la fotocamera posteriore. Parliamo infine della batteria di iPhone 8 Plus ma prima di parlare della batteria di iPhone 8 Plus vi vorrei dire qualcosa sulla batteria di iPhone 7 Plus dopo l'aggiornamento ad iOS 11 perché infatti è stata una lamentela decisamente diffusa Apple speriamo sia al lavoro a riguardo per correggere questo problema tra l'altro ha già rilasciato la prima beta di iOS 11.1 e quindi ci aspettiamo miglioramenti ma con iOS 11 il mio iPhone 7 Plus non dura più quanto durava prima ora dura circa un 20% un 10% in meno e arrivare a fine giornata non dico che sia impossibile ma è sicuramente più difficile dall'altra parte Apple ci parla di un iPhone 8 che avrebbe una durata di batteria ancora superiore rispetto a quella di iPhone 7 Plus nonostante la batteria all'interno sia leggermente più piccola è tutto vero ciò che viene detto infatti la batteria di iPhone 8 dura di più ma non dura di più rispetto a quella con cui veniva inizialmente spedito iPhone 7 Plus dura più o meno allo stesso modo quindi ci faccio nuovamente una giornata senza problemi arrivando a fine giornata con un 20-30% se lo uso in modo standard se lo stresso arrivo con un 10% anche qualcosina in meno a seconda appunto dell'utilizzo questo però paragonato all'iPhone 7 Plus attuale che mi dura di meno è ovviamente un passo in avanti ma paragonando la batteria iniziale di iPhone 8 Plus con la batteria iniziale di un anno fa di iPhone 7 Plus i risultati sono più o meno gli stessi quindi passi in avanti diciamo che non ce ne sono stati al massimo è iPhone 7 Plus che ha fatto qualche passo indietro con iOS 11 però parlando di iPhone 8 Plus la batteria è ottima dura una giornata senza problemi a prescindere da come lo utilizzate e poi come vi dicevo prima volendo ricarica rapida del 50% in 30 minuti oppure carica wireless per non avere problemi con un prezzo di listino che parte da 949€ per la versione da 64GB e che sale addirittura a 1119€ per la versione da 256GB non serve che ve lo dica io iPhone 8 Plus è un telefono decisamente costoso costoso non tanto per quello che offre secondo me ma più che altro per quello che sarà poi iPhone X un telefono che non costerà molto di più ma offrirà qualche chicchetta in più per quanto riguarda però iPhone 8 Plus avete in mano un telefono già collaudato perché sono 4 anni che Apple sceglie questo design sono 4 anni che lavora su uno smartphone di questo tipo e infatti lui rappresenta la perfezione del modello Plus un'evoluzione continua che in questi anni ci ha portato ad avere poi uno schermo migliorato non solo in termini di colori, di risoluzione, di dimensione ma anche con queste nuove tecnologie come il True Tone Display e l'HDR che rendono veramente molto bene, è migliorato poi tantissimo anche dal punto di vista del processore infatti a bordo c'è la 11 Bionic lo stesso che troveremo sull'iPhone di punta è migliorato l'audio, migliore qualità, più alto il volume ed è migliorata la batteria anzi no non è migliorata ma è tornata sugli standard a cui eravamo abituati per il modello Plus e poi c'è la fotocamera che è la vera novità, stravolta completamente, portrait lightning stupenda e insomma anche lato video grossi miglioramenti quindi noterete veramente i passi in avanti ad ogni scatto o ad ogni video resta il fatto che il prezzo è molto alto, non in valore assoluto perché costa soltanto 50 euro in più rispetto all'iPhone 7 Plus di un anno fa ma più che altro perché con iPhone X, iPhone X alle porte già a novembre forse non ha tutto questo senso investire ora questi soldi su un iPhone 8 Plus che magari poi dovrete vendervi o che dovrete tenervi rinunciando ad iPhone X che offre decisamente di più ma se volete uno smartphone collaudato come vi stavo dicendo sicuro e che ha qualche funzionalità software in più legata al fatto che è un iPhone Plus allora iPhone 8 Plus è la scelta perfetta per voi